Buongiorno, bentornati a Coffee Break, buon avvio di settimana, lunedì che coincide con il 4 novembre, il giorno dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate con il capo dello Stato, Mattarella, che poco fa ha deposto una corona al Militegnoto, poi sarà a Napoli per un'altra cerimonia a proposito del 4 novembre. Noi però stamattina cominciamo dal maltempo, ieri è stata una giornata disastrosa in molte regioni italiane, in particolare il maltempo è infierito sulla Liguria e non è la prima volta, oggi c'è allerta in Liguria appunto, ma anche in Emilia Romagna e Calabria, in Liguria in particolare ci sono state, come sempre avviene in questi casi, di piogge molto abbondanti, frane e inondazioni da Levante a Ponente e per oggi si temono le mareggiate, pensate oggi peraltro è l'anniversario dell'alluvione di Firenze del 66. Abbiamo al telefono con noi Valentina Ghio che è sindaca di Sestri Levante, buongiorno Sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Senta, molto rapidamente, come si è svegliata stamattina Sestri? Allora stamattina si è svegliata un po' meglio di come si è addormentata ieri sera, ieri sera c'era tutta la giornata uno scenario davvero da tragedia, con il torrente Petronio che è zondato due volte al suo massimo livello e nella notte si è alzato il mare, quindi il timore era che l'onda facesse da barriera al deflusso del torrente. Il mare per fortuna si è alzato un pochino meno di quelle che erano le previsioni e la pioggia è cessata così il torrente è riuscito a defluire. Però ieri è stata davvero una giornata preoccupante con tanti allagamenti e zone isolate. Peraltro abbiamo visto il suo invito accorato alla popolazione di non uscire di casa, io quello che volevo chiederle molto rapidamente, ma è possibile, la Liguria è particolarmente colpita, che ogni volta che ci sono queste piogge violente si torna a parlare degli stessi problemi, ma contro il dissesto cosa è stato fatto nel suo territorio? Nulla? No, nulla no. Sono state fatte tutta una serie di azioni che però soprattutto sono servite a tamponare determinati effetti o a mitigarli. Credo che sia necessaria un'azione molto più strutturale che coinvolge i comuni, ma che coinvolge anche la regione, che coinvolge anche il governo. Credo che debba essere la prima priorità, forse un po' in tutta l'Italia, ma nella Liguria in primo luogo. Quello di pensare in modo diverso il territorio e a pensare a interventi di lungo termine che non vadano solo a riparare i danni, come per esempio è successo nella mareggiata dello scorso anno, il 29 ottobre, ma che vadano a curare e a concepire un altro modo di vivere il territorio. Quindi andando davvero a sanare quello che sono le colline che crollano, che sono i torrenti che non stanno più negli argini, non si fa in due giorni questo lavoro. Sono investimenti strutturali che devono andare avanti negli anni, però bisogna iniziare a farlo in modo sistematico, altrimenti sarà veramente troppo tardi e non riusciremo più neanche a tamponare le ferite di ogni emergenza. Grazie Sindaco, buon lavoro. Allora sperando che oggi sia una giornata più tranquilla e che anche l'allerta piano piano rientri. Buongiorno Daniela Preziosi, è vero che tra poco parliamo della plastic tax, parleremo della manovra, di tutti i temi di attualità politica, però siamo sempre al punto di prima. Ma chi farà tesoro delle parole della Sindaca? Nessuno? Beh, se diciamo, se continua in questa maniera, è chiaro, lo diceva la Sindaca, in realtà in quella regione sono stati fatti anche interventi abbastanza importanti in altre aree, per carità, in altre aree, però è evidente che ci sono anni, decenni di incuria. La manutenzione del territorio è una cosa quotidiana, le colline, le diceva la Sindaca, le colline, i boschi, i monti, gli alberi hanno bisogno di essere manutenuti. Ma da quanti anni anche tu senti parlare di tutto questo? Da sempre, ti dico quanti. Quanti piani straordinari sono stati messi sulla carta in piedi? Ti dico quanti dichiarando la mia età a 50. No, no, ma non era questo. Però non mi pare che ci siano... No, però in realtà ci sono, sono state fatte in Liguria in particolare... Ho capito, ma se i risultati poi sono questi, c'è da chiedersi come vengono fatti allora anche i lavori. La manutenzione non dà consenso, la manutenzione dei territori. Quegli interventi strutturali piccoli e diffusi nel territorio non danno consenso perché i cittadini non ne vedono immediatamente gli effetti. Quindi la manutenzione... Qui ne va dell'incolumità proprio. Naturalmente potremmo dire che erano quelli di prima prima e che non ce li ricordiamo più. Quindi questa è purtroppo la questione. Io vedo Roma, gli alberi caduti per due gocce di pioggia. Quanti anni è che questi alberi non vengono potati, non vengono curati? Roma sicuramente vive questa situazione, però pensiamo anche qualche giorno fa a Milano c'è stata una pioggia torrenziale, di nuovo l'allarme Seveso. Io sento parlare della messa in sicurezza del Seveso da anni, per dire. Quindi questo riguarda tutta l'Italia, quello che è successo in campagna ieri. La manutenzione non va di moda perché non porta consenso. Gaetano Pedula è così, bentornato al direttore della notizia, non porta consenso e quindi ci dimentichiamo. Cioè grandi annunci e poi ci dimentichiamo che bisogna intervenire sul territorio. La sindaca ha detto chiaramente che non è con le misure tampone che si risolvono questi problemi. Quindi non è un tema di manutenzione, è un tema di grande sviluppo, di grande prospettiva, di grande piano di consapevolezza che il clima è cambiato, che ci sono delle condizioni che rendono come dire, molto violente delle situazioni meteorologiche che quindi creano grandi difficoltà. Come si risolve questo? C'è solo una ricetta. Grandi interventi strutturali, grandi opere. Il nostro Paese è in grado di fare tutto questo? Da solo no. Nel governo precedente, il Conte 1, è partito un programma da 11 miliardi di euro che sono stati in parte, tra l'altro, tenuti fuori dai vincoli di bilancio e di deficit. Il progetto che tende proprio a ristrutturare con i consorsi di bonifica, con i grandi invasi, una serie di situazioni molto problematiche nel nostro Paese. È un progetto che è partito, di cui non vediamo gli effetti perché poi c'è da fare i conti con la burocrazia, i tempi degli appalti. Cioè cantieri aperti? No, i cantieri aperti ce ne sono pochi, ma il tema è più soldi, perché stiamo parlando dell'Italia e non della Liguria, domani parliamo del Veneto, poi si è fatto accenna a Roma. Ci sono situazioni tante diffuse e un piano più veloce dal punto di vista burocratico per far partire tutte le infrastrutture che hanno a che fare con la stabilità del territorio. Allora, abbiamo una pubblicità, come si dice, tassativa, voglio però fare una battuta con Alberto Quasco, che saluto, bentornato, che insegna storia contemporanea all'Alin Campus. Ma la storia appunto non ci insegna nulla? Potrei ribattere con una frase di Gramsci, la storia insegna ma non ha allievi. Eh, questi non ha allievi, questi allievi, diciamo, dei gletti, sono i politici che hanno bisogno del consenso immediato? Ma non solo, ma qui entriamo in problematiche anche lunghe decenni, a quello che è stato già giustamente sottolineato, potremmo aggiungere anche la questione dell'abusivismo edilizio, delle sanatorie che lo toccano e dunque non si può fare piani territoriali di, come dire, difesa del territorio da un lato con una mano e con l'altra invece produrre sanatorie su sanatorie e potremmo andare avanti toccando altre regioni e toccando anche altre questioni al di là, insomma, di ciò che in Liguria sembra l'ordine del giorno. Una rinfrescata alla memoria, per così dire. Allora, andiamo a pubblicità, saluto Maria Elena Capitanio, bentornata alla verità. Buongiorno. Così come saluto Bacchisi Oleda, che è un imprenditore ed è presidente di Mail Express Group, che è un gruppo postale privato e che è dalla parte degli imprenditori che sono molto poco soddisfatti, mettiamola così in questa manovra, e ci dirà molte cose, poi sentiremo la sua opinione. Allora, pubblicità e ripartiamo da che cosa? Dalla plastic tax, ma non solo. Ieri, insomma, è stato un weekend molto intenso, una domenica molto intensa, sono state dette molte cose, mentre proprio oggi la manovra approda in Parlamento, si comincia dal Senato per un lungo e immaginiamo complicato itera, tra poco. Starebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa manovra e naturalmente a lavorare insieme anche per migliorarla ulteriormente. Noi dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica monouso. È evidente a tutti e noi non possiamo prima applaudire i giovani che scendono in piazza per chiedere un ambiente migliore, un futuro per tutti, e poi non agire di conseguenza. Quindi una misura che disincentivi l'utilizzo della plastica monouso è giusta. Poi occorre modularla bene e per questo io sono pronto a discutere con gli operatori del settore, anche per sostenere e incentivare anche la riconversione tecnologica verso l'utilizzo di materiali biodegradabili. Ho sentito il ministro Gualtieri, le do una notizia. Tra pochi giorni sarà convocato un tavolo a Roma dal ministro e successivamente, ma a breve, verrà anche in Emilia-Romagna. Io posto il problema di provvedimenti che vadano a rimodulare. Io non so se si potrà togliere tutta la tassa. So certamente che si può ridurre tantissimo l'impatto. Ripeto, in Emilia-Romagna stiamo da mesi discutendo con le imprese proprio perché noi non ci si fermi ad andare verso una riconversione ecologica che parte anche da un plastic free. Ripeto, c'è una direttiva europea che tra un anno tutti dovranno adottare, ma che non vada immediatamente a colpire. Perché vede, se io voglio mettere in campo un provvedimento per riconversione ecologica necessario e il primo effetto è che dal giorno dopo rimangano a casa migliaia di lavoratori, io credo che il prezzo da pagare sarebbe molto alto. Io penso che il ministro dell'economia si sia reso conto che la tassa sulla plastica, così per come è stata pensata, è un errore. Ma non perché lo diciamo soltanto noi. Lo dice anche Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, dove c'è il 62% della produzione di plastica, di imballaggi, anche monouso, del nostro paese. Io credo che sia una questione di buonsenso. Io vorrei evitare che tra qualche settimana, nella sua trasmissione, debba ospitare persone che rischiano di perdere il lavoro in Emilia-Romagna, magari perché con queste nuove tasse la produzione va in difficoltà. Abbiamo stanziato le risorse per ridurre l'IRPEF in busta paga ai lavoratori, 3 miliardi in meno di IRPEF su quest'anno, che diventano 5 dal prossimo. Abbiamo poi lavorato sulla semplificazione di tributi locali e delle imposte sugli immobili. Siamo intervenuti sulla lotta all'evasione, sulla grande evasione, e abbiamo impedito l'aumento dell'IVA, 23 miliardi che sarebbero pesati sulle tasche delle famiglie. Io qui sto cercando di prendere il dossier sulla politica industriale. E nel frattempo mi vergogno, perché mi vergogno, di aver fatto parte di un partito e di aver lavorato con il Presidente del Consiglio, Parlo di Renzi, che si stanno rimangiando tutto quello che abbiamo detto e che abbiamo fatto semplicemente per la ragione di avere uno strapuntino, perché questa è la realtà. E non so dirla in maniera più gentile. Potete, scusate l'espressione, cazzeggiare su quello che vi pare, ma non sui posti di lavoro, non sulla fabbrica, non sul mezzogiorno, perché questo è davvero da irresponsabile. Invece di discutere su cose di cui non frega niente a nessuno, quanto durerà il governo, come durerà il governo, chi andrà lì, quando andrà là, farvi questa specie di guerra sotterranea che non capisce nessuno, invece di fare questo, pensate a quello che vale. Oh, durissimo, calenda nei confronti soprattutto di Renzi. Vado da Bacchisi Oledda. Allora, insomma, da imprenditore, che ne pensa di tutta questa discussione sulla plastic tax, lei? Ma guardi, io penso che in Italia siamo abituati a farci prima la fune e poi la campana. Bisogna farci la campana e successivamente la fune. Quindi noi partiamo da fare determinate azioni che non ci portano da nessuna parte. Ci sta una direttiva europea? Aspettiamo la direttiva europea, sarà la comunità europea che rispetterà in modo univoco questo regolamento e alla fine sarà pari condizio per tutti quanti. Inutile che partiamo qualche anno prima creando dei danni enormi in un settore industriale che in questo momento è impreparato. Abbiamo studiato qualcosa di alternativa per i prodotti monuso? Ancora no. Quindi aspettiamo di fare questi interventi e poi è giusto, ma deve essere fatto da tutti l'attuazione di questa normativa, di queste regole della plastica che inquina e robe varie, ma deve essere prima europea, per non dire a livello mondiale. Sì, a lei non sfugge certamente che questo governo cerca disperatamente soldi, risorse, al di là delle motivazioni di sostenibilità ambientale sacrosanze. Guardi, io sono convinto di una cosa. Che soldi ci stanno? Li hanno spesi solo in campagna elettorale. Bastava solo fare meno spot elettorali che ci costano 5 miliardi di euro e probabilmente non avremo tutte queste tasse qua. Quindi, che facciamo? Ci stanno dei costi che purtroppo sono enormi. Abbiamo messo, tanto per fare un esempio, reddito di cittadinanza senza aver prima sistemato gli uffici di collocamento, senza mettere... Mi pare di capire che a lei il reddito di cittadinanza non piace per niente. Per niente. Quota 100? Meno ancora. Ah, ecco no. Alla quota 100 ritengo che sia indispensabile per quelli che erano esodati. Ma per quelli che vogliono andare in pensione, dottori o per altri impiegati del pubblico impiego che vanno via al quota 100, sa che a noi costa tantissimo questo tipo. Si parla di 20 miliardi nel giro di 3-4 anni. Quindi facciamo uscire le vacche e poi chiudiamo la stalla. Allora, vado da Maria Elena Capitanio. Perché, lo sentivamo dalle parole del governatore uscente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, lui ha detto che sarebbe una follia per l'Emilia, un po' come dire, guardate che le elezioni regionali del 26 gennaio sono a rischio, eh? Se il governo persevera nella plastitax, visto che in Emilia credo ci siano il maggior numero di aziende produttrici di plastica, di questo tipo di plastica. Diciamo che è l'unico punto su cui il governatore Bonaccini ha ragione, nel senso che sa perfettamente che siccome la maggior parte dei prodotti di plastica monouso viene prodotto in Emilia Romagna, è ovvio che si preoccupi, perché manca solo questo punto. Ha già una situazione molto disastrata, l'abbiamo vista con l'Umbria, quindi sono in grande difficoltà. E ovvio che Bonaccini tiri l'acqua al suo molino. Però dice una cosa giusta, perché la plastic tax, fatta in questo modo, c'è una conversione dell'Italia a paese green, quindi ecologica, fatta in maniera traumatica, poi a discapito del PIL e dell'occupazione, è ovvio che è un modo di fare che mette a rischio, appunto abbiamo visto, più o meno un migliaio di posti di lavoro. E dall'altra parte anche, per esempio, l'aumento triplicata, la tassa sulle auto aziendali, in favore sempre delle auto ibride, delle auto elettriche. Però questo è un danno all'economia, è un danno certo, perché faccio un esempio, triplicata la tassa sulle auto aziendali, le auto che sono a diesel e benzina, che vengono prodotte in Italia. E invece non vale questa triplicazione della tassa per le auto ibride ed elettriche, che vengono prodotte principalmente in Francia, in Germania e in Giappone. Quindi è presto detto, non è che ci vuole un economista o un professore universitario per capire che, insomma ci vuole giusto un po' di cervello per capire che questi sono tutti grossi danni all'economia italiana, per arrivare alla plastic tax. Ovviamente è ovvio che si deve fare una riconversione, però non va soltanto penalizzato l'utilizzo della plastica monouso, ma va proposta poi una via d'uscita, perché se no per le famiglie significa soltanto un aumento dei prezzi al consumo, quindi la mamma di famiglia andrà al supermercato a comprarsi l'amorbidente, a comprare lo shampoo, il tubetto di dentifricio e ovviamente pagherà di più quei prodotti. Cioè tu dici il costo finale, tanto sappiamo come va a finire, va sempre sulle spalle degli italiani, perché questa conversione green deve essere vista in un approccio europeo, ma anche globale, addirittura mondiale, se no non si va da nessuna parte, si penalizzano soltanto le aziende. Aspettate, aspettate, vi voglio fare vedere. Adesso arriviamo, posso fare valore, vi faccio vedere, per completezza di informazione, dovremmo avere dal blog di Stefano Ciafani, che è il presidente nazionale di Lega Ambiente, lui è intervenuto ovviamente sulla plastic tax, una norma sacrosanta ancora da migliorare, dice Stefano Ciafani. Eccolo qua, la plastic tax è una norma sacrosanta, va difesa dalle critiche della parte più reazionaria dell'industria e della politica italiana, ma durante la discussione parlamentare serve migliorarla in alcuni passaggi, che è quello che diciamo si augurano, anzi vogliono fortemente, i renziani di Italia Viva. Poi c'è Di Maio, che difende a spada tratta la plastic tax, forse abbiamo questo, non so se è un tweet o un post di Di Maio, una svolta ambientale, serve ad una svolta ambientale della plastic tax e sul tributo è in corso, dice Di Maio, un dibattito surreale. Quindi il Movimento 5 Stelle ancora una volta difende, eccolo qua, la questione della plastic tax, dice abbiamo promesso un Green New Deal, un grande piano per l'ambiente e la plastic tax serve a questo, serve a dare una scossa, serve a invertire la rotta, non promuovi l'ambiente parlandolo, promuovi facendo delle scelte. I soldi di uno Stato non sono infiniti, vanno redistribuiti e la politica serve a questo appunto a fare delle scelte. Ultimo di questa serie, credo di tweet, questo è Di Renzi, vediamo il tweet di Di Renzi, scrive il leader di Italia Viva, per 24 ore, un fiume di polemiche contro Di Me, ora retromarcia in corso sulle nuove tasse, cioè plastiche e autoaziendali, bene, apprezzo il buonsenso del Ministro Gualtieri, per Italia Viva conta solo il risultato. Insomma, queste sono le varie posizioni. Oggi comincia l'iter della manovra, assisteremo come peraltro accade sempre, in questi casi a tutto il contrario di tutto. Il solito assalto alla diligenza, anche se molti indizi lasciano pensare questo. Dico però, attenzione, sono in disaccordo con quello che veniva detto, cioè inseriamo il tema della tassa sulle plastiche all'interno della direttiva europea, all'interno di un ragionamento più complessivo. Io mi domando, siamo riquisti, bene, questa è l'ipotesi, io mi domando, ma se doveste avere casa che va in fiamme, aspettate i vigili del fuoco o iniziate a cercare di mettere al riparo qualcosa, a mettere in sicurezza, a provare a spegnere l'incendio. Noi siamo di fronte a un tema, abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo dei grandi problemi climatici, di quello che accade anche nel nostro paese, dove il clima è evidentemente cambiato. vogliamo restare immobili aspettando che qualcuno ci dica dall'alto che cosa fare. Allora, il tema tasse in questo paese va utilizzato con cautela, è un paese che è già tartassato e quindi, secondo me è stato un errore inserire anche in questa manovra il ragionamento sulle microtasse cosiddette. Ma un tema che può uscire anche al di fuori della manovra, rispetto a una educazione, perché stiamo parlando di un atteggiamento complesso che va, come dire, indicato, indirizzato ai consumatori per iniziare, rispetto ai cambiamenti che dobbiamo tutti provare a fare per contribuire sul serio a cambiare il peso. Il tuo pensiero è chiarissimo, però il rischio che veniva evocato da Maria Elena Capitano, cioè che alla fine i costi saranno scaricati sui consumatori. Perfetto, è il solito argomento. Io credo che una riforma profonda anche delle abitudini dei consumatori consentirà di creare talmente tanti posti di lavoro e di dare un tal impulso al PIL che non avremo il problema di mille posti che forse eventualmente vedremo se saranno in pericolo o forse no. Sono cose graduali. Gradualmente iniziamo. Ma non è graduale perché non si dà la possibilità non si raccomanda. Non è una logica del... Non credo che chiuderà nessuno domani perché c'è un centesimo di tassa da qui a quando avverrà la conversione totale sicuramente sì, anche perché alla gente si sta dicendo vi disincentiviamo a utilizzare plastica monouso, ma cosa fate? Cioè bisogna qua anche creare una cultura che la risposta dalle scuole perché se no c'è il dibattito parlamentare per questo. C'è il dibattito parlamentare dice che non ci si mangia. Però tutti questi argomenti danno carburante ovviamente a chi? All'opposizione e a Matteo Salvini. Sentiamolo. Quelli che sono al governo che si stanno pestando come Fabri è Renzi contro Conte, Conte contro Di Maio, è Di Maio contro tutto il mondo, è Zingaretti scomparso. Non ci sono notizie di Zingaretti l'hanno visto con gli orsi, qua probabilmente nel parco della Damello Brenta. Se gli italiani devono giudicare da questi neanche due mesi di governo mamma mio Dio ce ne scampi. Questa settimana comincia in Senato la discussione sulla manovra economica daremo battaglia. Daremo battaglia per cancellare più tasse, microtasse, megatasse e cazzate possibili e quindi se necessario riterremo giorno e notte chiusi in Parlamento perché di tutto l'Italia ha bisogno in questo momento forché di nuove tasse, le tasse sulla plastica, le tasse sugli euro diesel, le tasse sulla casa che rischiano di aumentare, la tassa sugli alimentari perché la tassa sulla plastica significa pagare di più quando si va a fare la spesa e quindi l'iterremo se serve giorno e notti chiusi in Parlamento. grazie al Cardinal Ruini che oggi in un'intervista sul Corriere della Sera si può leggere anche sul Corriere Online Corriere.it porta la voce di quella parte di Chiesa che giustamente chiede il dialogo con tutti perfino con Salvini e con la Lega. Allora, con la chiosa finale di Salvini il riferimento era all'intervista appunto ieri sul Corriere della Sera dell'ex presidente della conferenza episcopale italiana nel Cardinal Ruini che ha detto insomma la Chiesa deve dialogare con Salvini e poi ha detto altre cose adesso tanto per capire il riferimento che faceva il leader della Lega. Allora, Daniela Preziosi insomma per Salvini c'è una prateria in questo momento? Sì, però c'è una prateria perché appunto poi ci va nei monti e nei montagni fa questi separietti qua così per carità però diciamo partiamo dall'inizio perché io sono d'accordo se intanto questa tassa verrà rimodulata cosa che mi sembra la plastic tax verrà rimodulata vuol dire che c'è l'ammissione di una mossa un po' diciamo improvvisata però partiamo da dove l'improvvisazione non si improvvisa come diceva Totò perché tutto questo nasce dal fatto che il governo c'è un governo che ha preso le redini improvvisamente perché c'era un signore che era il leader che abbiamo appena visto e che adesso sta in giro per gli orsi e fa le battute sugli orsi e sugli altri politici che voleva fare la crisi di governo in pieno per agosto e forse poteva succedere che non c'eravamo neanche il governo a settembre adesso che c'era la finanziaria perché come sappiamo la formazione dei governi è una cosa un po' diciamo complicata in Germania ci hanno messo sei mesi lo scorso giro in Italia stessa per cui diciamo anche il nostro grazie a Dio non si è fatto perdere niente allora il rischio non era di avere la plastic tax la sugar tax ma di non avere diciamo neanche un governo un governo che facesse che tamponasse le clausole di Safeguardia che come sappiamo valevano 23 miliardi è inutile che ricordiamo questa è la partenza perché se non ricordiamo questo che è la regola di ingaggio di questo governo improvvisato che è un governo improvvisato perché fatto come quello precedente di due forze politiche che si detestavano e che si dicevano di ogni quindi questa è la partenza questi soldi che dovevano essere trovati per questa finanziaria non è che cadevano dal cielo c'era un'ipotesi di finanziaria già indicata dal precedente ministro Tria che era sostanzialmente di tagli lineari che sono il peggio per lo sviluppo per i settori di welfare il peggio del peggio in verità avrebbe anche fatto degli aumenti selettivi dell'IVA l'aveva detto lo diceva da tempo che non è la fine del mondo solo che siccome adesso abbiamo la start up del partito di Renzi ogni cosa Renzi deve farsi notare su tutto quindi anziché affrontare laicamente l'imprenditore Bacchisio Ledda qui io non sono d'accordo sul fatto che si deve iniziare però in realtà cosa stava chiedendo stava chiedendo dei tempi per come ogni imprenditore che deve rimodulare il proprio business e la propria cosa allora io accolgo nonostante sia del manifesto però accolgo con la ragionevolezza di un imprenditore che dite d'accordo mi converto adesso lui fa un altro business per carità però mi converto con dei tempi io penso che questo poi sarà quello che succede e succederà davvero il fatto che questo governo sia nato così in corsa ovviamente significa che sta facendo delle cose un po' approssimative ma la vicenda della direttiva europea che comunque è già attiva in giro per i paesi d'Europa tant'è che la Gran Bretagna ancora prima di iniziare Brexit aveva iniziato questo percorso e il percorso verso un alleggerimento dell'uso delle plastiche si deve andare è una cosa diciamo la direzione della storia ci sono sei isole io lo dico sempre ci sono sei isole di plastica ce n'è una che è di 8 km quadrati sono isole sono immagini impressionanti ora queste robe qua impoveriscono il nostro pianeta intero e le risorse immaginiamo dei business che aiutino a rendere questo paese questo pianeta più pulito ma facendo business non solo per la crescita felice ho capito allora no scusate vi devo interrompere sono ritardissimo allora adesso li coinvolgo subito dopo la pubblicità del professor Guasco perché torniamo e vi facciamo sentire cosa disse nel 1973 l'allora sottosegretario alla finanze del secondo governo Andreotti dopo la pubblicità la situazione economica italiana è grave il governatore della banca d'italia ha prospettato tra l'altro un inasprimento fiscale sull'argomento abbiamo chiesto il parere del sottosegretario alle finanze dell'uscente governo Andreotti onorevole Alpino concordo in pieno sulla necessità di tornare a finanziare la spesa corrente con l'entrata corrente non con debiti che devono invece servire agli investimenti ma in un periodo in cui il gettito fiscale già è molto sotto le previsioni mi domando dove e come si possono inasprire le imposte non certo nelle dirette le cui aliquote sono già così alte che la riforma è tutta orientata a ridurle per consentire denunce più veritiere tantomeno nelle indirette oggi accentrate sull'IVA per la quale si continua a reclamare riduzioni di aliquote ed esenzioni per la lotta al carovita resta solo il campo dell'imposta straordinaria cioè la patrimoniale che per tante buone ragioni era stata bandita dal 1948 dal nostro sistema fiscale ma mi rifiuto stesse in una fase così difficile per l'economia e il risparmio di accogliere questa ipotesi oh grazie perché l'istituto luce è formidabile il professor Quasco non è cambiato niente di nuovo sotto il sole perfetto se era in bianco a colori era di ieri tra l'altro teniamo presente che è l'anno della guerra del Kippur della crisi petrolifera quindi sta parlando a ragione veduta peraltro con un governo spostato a destra che riesce a tenere fuori Almirante grazie alle impuntature di Moro il contesto di crisi politica è quello riguardo alla manovra di oggi quello che io posso dire è che siamo soltanto all'antipasto dei problemi che vedremo nei prossimi anni ma lo dice come una promessa è una minaccia ma questo dipende per tutti questo vale per tutti nel senso che da un lato ci va ci va come è stato sottolineato questa riconversione green che tocchi un comparto che ne tocchi un altro chi è stato o chi ha letto qualcosa riguardo al salone dell'auto di Francoforte di un mese e mezzo fa ha visto che siamo in fase di pre-boom sull'auto elettrica quindi ci siamo ormai coi piedi dentro da questo punto di vista dall'altro in che modo e questa è la domanda alla quale io non ho una risposta ma penso che non ce l'abbia nessuno tutto questo può essere coniugato salvaguardando quei comparti che ancora tengono in primo luogo quello della plastica e questo ci porta dritti alle elezioni regionali di gennaio in Emilia Romagna certo voglio dare un dato così torno anche da Bacchisi Oledda le agenzie stanno ribattendo il rapporto Svimez sul sud Italia e le cifre che non sono inedite però mettono paura allora nel 2019 il sud è in recessione il PIL meno 0,2% rispetto allo 0,3 più 0,3 del centro nord e più 0,2 della media nazionale poi nell'ultimo decennio è aumentato ovviamente il divario tra nord e sud per raggiungere i livelli del centro nord al sud servirebbero circa 3 milioni 3 milioni di nuovi posti di lavoro poi 2 milioni di giovani dal 2000 sono andati via dal sud poi c'è una nota che riguarda un provvedimento diciamo che è sempre nel mirino il reddito di cittadinanza lo Svimez dice dal reddito di cittadinanza impatto nullo sul lavoro misura utile ma serve il welfare e soprattutto allontana dall'occupazione poi parla anche dei temi che stavamo discutendo il Green New Deal che è una grande opportunità sottolinea lo Svimez opportunità di rilancio la bioeconomia meridionale vale tra i 50 e i 60 miliardi di euro insomma noi abbiamo due italie questo lo sappiamo qualcuno dice che ce ne sono molte di più ma insomma due italie che sono molto lontane una dall'altra e l'Italia a sua volta per esempio se pensiamo al PIL è molto lontana da quello che fanno gli altri paesi i nostri diretti competenti in Europa allora voglio ricollegarmi leggermente a quel servizio appena andato in onda dell'istituto Luce che vi parlava della crisi della lira io penso di avere qualche anno più di tutti questi ospiti e ricordo bene quando c'era la lira io mi ricordo anche le domeniche ecologiche come no erano quegli anni in cui si andava a piedi ma la motivazione era per l'ambiente ma non è vero la motivazione non era per l'ambiente era perché quando dovevamo andare a comprare il petrolio ci volevano i dollari e noi dollari non ce li avevamo ok quindi tutta questa crisi la nostra parte da molto lontano non è una crisi di questi ultimi governi parte dagli anni 70 con l'espansione economica con i soldi i finanziamenti che arrivavano a pioggia da tutte le parti e oggi ne paghiamo le conseguenze e si è creato sempre di più questo divario tra nord e sud il nord che era il motore l'economia che girava e il sud che subiva la io vengo dalla Sardegna non è che vengo dal Trentino e non ho mai condiviso il ragionamento dei miei conterrani io ho una dignità cioè io voglio lavoro non voglio finanziamenti assiste un buon assistenzialismo no io non lo voglio cioè tuttora anche aziendalmente io non ho mai pur avendo avuto delle aziende al sud ho fatto accesso a domande per assistenzialismo però voglio delle opportunità che sono quelle che servono all'azienda quindi questi soldi che sono stati dati per il reddito di cittadinanza potevano essere dati al sud magari al nord o altre politiche per le aziende per le imprese per creare posti di lavoro le aziende le aziende hanno necessità di essere sostenute oggi le faccio anche le persone hanno necessità di essere sostenute oggi faccio un esempio ci sta lo split payment che significa che tutta quella l'iva che viene da parte degli enti viene trattenuta ma significa che noi finanziamo lo Stato e per accedere in banca prendere i soldi oggi si fa fatica quando c'è i soldi fermi che trattiene lo Stato quindi creiamo delle opportunità alle aziende mettiamole in condizioni di poter intraprendere perché se ci danno queste opportunità l'Italia è piena di persone volenterose che vogliono intraprendere e creare posti di lavoro sto seguendo il suo ragionamento a lei piaceva l'idea oramai dello scorso governo di flat tax cioè lo shock fiscale serve o no io ero contrario più a quello e premetto che a me farebbe tanto comodo quel tipo di tassazione però avrebbe creato un divario enorme tra quelli ricchi o medi della società media e quelli poveri cioè non ero d'accordo pur avendone dei benefici si mi creda direttamente come imprenditore come imprenditore ne avrei avuto dei benefici però non era quella la strada si oggi le tasse dobbiamo pagarle tutti e meno perché oggi noi lavoriamo undici mesi per lo Stato e l'ultimo mese se ti va bene rimane qualcosa per te eh sì è questo diciamo il problema della pressione fiscale è il grande non è troppo no però le aziende rispetto ad esempio 8 mesi e misurate ormai una tassazione che sfiora il 70% vado a memoria quindi fino ad agosto c'è sotto corona non so se però Marielena Capitanio voleva intervenire la flat tax avrebbe dato un impulso all'economia perché ricordo che avrebbe aumentato l'imponibile quindi comunque poteva essere una misura per dare un grosso slancio al nostro paese e abbiamo visto dagli anni 70 in poi quando sono state introdotte comunque ecco le le cosiddette misure assistenzialistiche che hanno del tutto fallito anche perché poi il problema in Italia è quello di tutti i limiti per chi anche prende il reddito di cittadinanza perché si fa una misura un provvedimento che sarebbe anche idealmente giusto e che comunque rispetta anche il dettato costituzionale però poi dopo se saltano tutti i limiti no per cui si può prendere o meno il reddito di cittadinanza è lì che si inseriscono un sacco di problemi l'abbiamo visto anche con altre misure non lo so con la Naspi quindi il sussidio di disoccupazione introdotto da Renzi che poi dopo saltano un sacco di limiti e quindi alla fine lo prendono in tantissimi o anche succede anche con le pensioni di invalidità quindi siamo il paese in cui un po' diciamo di totò è un altro elemento anche no cioè la correttessa è un fatto che noi siamo scarsamente etici pensiamo ai falsi validi e quello lì puoi mettere tutti i paletti che vuoi però il falso invalido è il falso invalido esatto ma noi entriamo però in questo tipo di cultura o come il signore l'altro giorno con la Porsche che aveva il reddito di cittadinanza quello siamo un po' noi italiani diciamo è un po' proverbiale questo fatto vuol dire l'ultima cosa sulla manovra per un'assistenza ci dovevano essere quello che io dico è che però bisogna mettere dei freni scusate sulla manovra ti chiedo soltanto di pazientare che ci sono trovato intanto riprendiamo il discorso buongiorno Paolo che succede oggi dopo una domenica molto complicata oggi è una giornata relativamente tranquilla perché i temporali vedete quelli che hanno attraversato l'Italia ieri si sono ormai allontanati c'è un po' di nuvolosità ci sarà anche qualche pioggia ma la giornata in sé è tranquilla il problema è che non dura nel senso che le piogge previste per la seconda parte della giornata di oggi riguardano soprattutto vedete il versante tirrenico della penisola e forse ancora un po' con la Liguria con piogge però moderate quindi nell'insieme la giornata non è critica domani ritornano fenomeni localmente intensi sul nord-est anche la zona centrale del nord l'alta Toscana la Liguria di Levante poi vedete le zone interne del centro del sud più sul versante tirrenico che su quello adriatico e piogge forti anche in Corsica e in parte in Sardegna la giornata di mercoledì vede ancora una situazione diciamo di maltempo abbastanza diffuso al centro e al sud mentre al nord abbiamo solo qualche pioggia debole quindi la tendenza al miglioramento c'è dovrebbe avanzare nella giornata di giovedì e questa volta con un certo abbassamento delle temperature che ancora nonostante il maltempo del fine settimana continuano a essere sopra la media la foto di oggi è direi emblematica perché Mario ci rimanda una foto di quella distruzione della famosa tempesta vaia dell'ottobre dell'anno scorso e però qualcuno ha come dire ha sentito il motto resistere 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 e questo alberello ha resistito io credo che sia un bel simbolo speriamo che basti il simbolo mettiamola così grazie a Palo Sottocorona qualche minuto torniamo e torniamo a proposito di discorsi che riguardano le imprese con uno dei grandi problemi delle imprese al di là della tassazione del peso fiscale l'altro giorno il presidente dei costruttori italiani aderenti al Lance ha detto testualmente la burocrazia ci sta ammazzando e il centro studi l'osservatorio della CGA di Mestre ha fatto una denuncia le piccole e medie imprese possono essere sottoposte fino a 122 controlli l'anno lo vediamo dopo la pubblicità non ho subito nessun ricatto e non ho fatto nessun passo indietro invece abbiamo fatto dei passi avanti nel senso che io l'ho sempre dichiarato qui stiamo parlando di un piano di modernizzazione del paese di riduzione della burocrazia all'indomani dell'estenuante consiglio dei ministri anche il premier Conte fa la fatidica promessa dei suoi predecessori ridurre la burocrazia è la CGA di Mestre ricordare che negli ultimi dieci anni tutti i governi hanno promesso la stessa cosa in vano le piccole e medie industrie rischiano ancora 122 controlli l'anno quasi uno ogni tre giorni da parte di 19 enti pubblici diversi una babele che non migliora il sistema un esempio per tutti quello dove si intensificano i controlli quasi 60 l'anno è il settore ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro e le ispezioni possono essere eseguite da 11 enti diversi e allora deve esserci qualcosa che non va se ancora nei primi 8 mesi dell'anno le morti sul lavoro sono state 685 più di 85 decessi al mese in tutto le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL sono state quasi 417 mila con tanto di aumento delle patologie di origine professionale e nel paese ammalato di evasione fiscale sono tanti e vani anche i controlli del fisco sulle piccole e medie imprese una trentina all'anno con le solite diverse agenzie almeno 6 nella contrattualistica circa 20 i possibili controlli fatti da 4 istituti differenti mentre l'amministrativo se la cava con una decina di controlli di 7 diversi enti anche se in totale gli istituti coinvolti nei controlli sono 19 perché alcuni compiono verifiche in più settori azienda lei quanti controlli riceve all'anno per la sua azienda è un all'anno minimo uno? sì intendo di quelli bellisseri cioè dalla guardia di finanza all'agenzia delle entrate oppure anche banca d'italia perché abbiamo un'azienda che è vigilata da banca d'italia e poi altri tanti piccoli controlli diciamo la verità siccome ci stanno tanti controlli per le piccole e medie imprese non è proprio così cioè io vedo i controlli più sulle grandi aziende anche perché fate un po' dei calcoli quanti ispettorati anche l'ispettorato del lavoro ogni intanto un'altra come si chiama forma di controllo però immaginate ci stanno milioni di aziende con migliaia di controllori dividete il numero dei controllori per le aziende vedete che i controlli sono molto rari allora però lo dicevo non credo in contatto con la cga di mestre non credo a quella statistica però parliamo di possibili controlli non di controlli reali possibili 122 non possibili 30 le statistiche dicono però se è possibile non sono quelli reali vorrei sapere invece dalla cga di mestre di mestre era? sì la cga di mestre gli artigiani esatto gli artigiani quali sono invece quelli reali che sono stati effettuati perché le due cose non collimano abbiamo visto i morti sul lavoro quest'anno e sono maggiori dello scorso anno una guerra che è come se fossero caduti una guerra perché è una cifra spaventosa e qualcuno non controlla evidentemente se adesso noi usciamo a Braccetto e andiamo a farci una passeggiata per Roma e vediamo i cantieri aperti ci sono tantissimi lavoratori purtroppo che non capiscono che devono mettersi l'elmetto o che non sono diciamo seguiti dal proprio capio cantiere facciamo questo giro e anche lì controlli non ci sono purtroppo è così io spero che i lavoratori sappiano che si tratta della propria salute ma intanto c'è qualcuno che non controlla e quindi quelli sono i controlli possibili quelli reali diceva anche l'EDDA se ci sono milioni di aziende per migliaia di controllori la proporzione non torna facciamo questa riflessione qua opero in una provincia in cui non penso di essere la più grossa ma tra le più grosse come fatturato eccetera e ci sta una divisione proprio speciale dell'agenzia delle entrate e della guardia finanza che controllano le aziende di questo tipo di fatturato di quelle dimensioni di quelle di certe dimensioni quelli piccoli raramente anche perché il controllo dell'agenzia delle entrate o della guardia finanza se non vado errato richiede 30 giorni all'interno dell'azienda quindi quanti controlli fa un anno sono 365 giorni tra giorni di permesso e robe varie ne farà meno di 10 ogni funzionario ogni incaricato del controllo ma è comunque un numero eccessivo di controlli o no adesso indipendentemente ma guardi le dico questo un all'anno un all'anno ritengo che sia un controllo eccessivo le spiego il perché perché richiede una disposizione di personale per i controlli quindi ti chiede questo documento ti chiede questo ti chiede quel lato cioè ti crea all'interno dell'azienda uno scompenso andrebbero bene ogni tre anni il tema però è quello che voglio essere controllato di controllo dipende che tipo di controlli perché quando si parla di sicurezza sul lavoro è ovvio che i controlli devono essere stringenti ma come diceva la mia collega Daniela Preziosi a me è capitato di andare in giro per Roma dietro a Villa Torlagna di vedere un operaio senza casco sul tetto di un palazzo e io mi sono andata lì a chiedermi scusi ma perché non ha il casco e ho capito che il problema è anche di sottovalutare il pericolo quindi io credo che i controlli siano giusti e dall'altra parte però bisogna spiegare so che ci sono i corsi che si fanno sulla sicurezza del lavoro di non sottovalutare le piccole cose del quotidiano perché si tende come con le malattie quando si è esposti alla stessa malattia si abbassa la guardia non c'è dubbio che poi ho fatto ogni culturale non c'è la parte del datore di lavoro che del dipendente però io credo che volevo dire un'ultima cosa mi faccia solo finire su un'ultima cosa io credo che le aziende abbiano diciamo piccola e media impresa in Italia abbiano da una parte la burocrazia che non è soltanto controlli fiscali è proprio anche l'accesso cioè se io voglio fare libera impresa in Italia ho dei problemi che sono burocratici quindi che sono in queste maglie mostruose prima di riuscire a fare libera impresa e dall'altra parte anche l'accesso al credito quindi diciamo che le imprese è per questo che secondo me in Italia non sono in grande difficoltà io e i miei figli o due figli se mi dicessero un domani se questa è la situazione economica mi dicessero di fare libera impresa io li sconsiglierei direi lavorate per quindi non fate gli imprenditori di voi stessi il mestiere più bello guarda il tema principale è quello della burocrazia perché il servizio come dice ci spiegava i possibili controlli che poi in realtà non ci sono quando ci sono sono fatti da strutture con poco personale pensiamo cosa sono gli ispettorati del lavoro e questo spiega il gran numero di morti sul lavoro che è un grande problema del nostro paese è un po' l'emblema di una politica che spesso fa leggi o crea regole che sono inapplicabili per dare più concretezza a quel tipo di controlli per dare più senso alla verifica dal punto di vista amministrativo dal punto di vista fiscale dal punto di vista della sicurezza sul lavoro basterebbe come dire accentrare in poche strutture che abbiano però i mezzi cioè il personale sufficiente per farlo pochi ma certi controlli ecco le piccole imprese dice giustamente l'imprenditore che ci si confronta come dire giornalmente le piccole piccolissime imprese che sono vessate dalle tasse che vanno aiutate su questo siamo tutti d'accordo dal punto di vista dei controlli però spesso vivono una eterna solitudine nessuno va mai a bussare per verificare ad esempio dal punto di vista proprio della sicurezza sul lavoro parto da questo se vengono applicate le norme minime gli estintori nei luoghi di lavoro il casco il casco e il cantiere e così via forse facendo poche cose ma fatte sicuramente si otterrebbero più risultati che creando centinaia di enti di agenzie di strutture che devono fare delle cose sennò hanno neanche i mezzi e non le fanno e non le fanno da due governi proprio piccolissime da due governi c'è una forza politica che ci diciamo bombarda per dirla in italiano pulito con aumenti di pene manette cose così cioè il movimento 5 stelle sì esattamente sempre colpa no no lo volevo dire che sennò per l'unità si urta quindi non volevo nominarlo sottolineo no cioè che continua a fare una propaganda diciamo così di piene di slogan cosa sì quando invece la legalità si basa su tutte non sugli slogan ma per esempio su investire sugli spettorati di lavoro questa storia del reddito di cittadinanza un'altra cosa che è necessarissimo sostenere le persone naturalmente ma ovviamente se non fai abbastanza controlli sta succedendo quello che stiamo leggendo ogni giorno che prendono in reddito tutte persone che lavorano in nero o che non ne hanno diritto però se ne abbiamo notizia vuol dire che qualche controllo ci sono l'Inpsa ha mandato ti viene da dire sì però insomma se questa è la proporzione se questa è la proporzione se questa è la proporzione ma non è che se c'è un giudice corrotto chiudiamo i tribunali attenzione ci sono i problemi nessuno li nega nessuno ha detto questo ma il provvedimento non può essere discusso che sicurezza e legalità non è slogan ma è concretamente investimento in questi settori un altro problema della burocrazia sono i burocrati che tengono quelle che sono le leggi normative sotto e non vengono mai tirate fuori ne potrete dire qualche d'una anche che mi riguarda non è il momento però la burocrazia spesso e volentieri per proteggere questo per proteggere quell'altro quell'altro ancora tiene delle leggi che non sono diventate ancora attuative sotto dentro al cassetto nascoste e protegge se stessa questo è il grande limite è perché quello non ha niente da perdere ma proteggono il loro potere perché tenere bloccato vuol dire preferiremmo stato scuola ora ne parleremo della burocrazia dei burocrati posso dirvi cosa ci scrive Gustavo un telespettatore dice sì sto seguendo tutti i dibattiti sulla plastic tax ma scusate a cosa serve la raccolta differenziata trattano gli italiani come degli inquinatori globali mentre ci sono dei dati importanti molto importanti sulla nostra sensibilità ambientale scrive Gustavo siamo tra i leader qualcuno io sentivo un imprenditore l'altro giorno che ha detto una cosa secondo me diciamo di buonsenso ha detto sì mettere la plastica seguire la raccolta differenziata quindi separarla è molto importante ma finché non cambierà il paradigma di chi produce anche in questo senso poco si potrà fare con la differenziata la plastic tax ha esattamente quella cosa quella direzione la plastic tax dice se devi produrre con plastica non riciclata perché invece poi quella riciclata naturalmente è meno diciamo inquinante proprio perché se devi produrre ti costa di più perché quello è un atteggiamento produttivo sbagliato mi sembra di buonsenso che si va da quella parte io credo che avremo giorni e giorni molto lunghi per parlare ancora di plastic tax di emendamenti di fibrillazioni nel governo di dibattito parlamentare sono facile profeta intanto do il buon lunedì a Mirta ciao Mirta buon lunedì caro Andrea allora anche noi parleremo tanto di plastic tax ma parleremo anche di un governo che qualcuno definisce di plastica che ha l'opposizione al suo interno con noi Pietro Senaldi Fabrizio Desposito Marcello Sorgi Gennaro Migliore Sebastiano Barisoni Giorgio Mulè Beatrice Lorenzin Antonio Caprani che Raffaello Lupi quindi sulle tasse ci staremo un bel po' non perdeteci le aspetto grazie allora grazie ai nostri ospiti ma anche per il solito confronto civile anche perché così si capiscono le cose se no diventa complicato ci vediamo domani come sempre stessa ora stessa rete domani a proposito di plastic tax vogliamo parlare molto di Green New Deal farci spiegare molte cose a partire dall'attuale titolare dell'ambiente cioè il ministro Costa adesso c'è la regga tira ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti